Vabbè, per la prima volta lasciatemi presentare un po' seriamente i miei compagni d'avventura. Alla chitarra Gianni. Alla chitarra Gianna. Alcuneo saluta alla batteria Gianni. Alla voce Gianni. E io sono Sergio, questa è un po' complicata da spiegare, non la sanno neanche i miei amichetti. Per cui passiamo direttamente al prossimo brano che ha come sottotitolo l'età della pedra. Il titolo è Zurassikpa. Che non è la pedra.